Adesso? Adesso ho tutti i bambini, tutti i cori. Ok. Un po'. Adesso? Più forte. Eppure mi sto allontanando dal corpo. Andando a barbino. Ondeggiare. Ondeggiare. Hai notato che mi sto allontanando da te? Sì, ma più forte. E' più forte. E' più allargato. E' più espanso. E questo è per farvi capire che questa non è solo energia. Ok? Sì, ecco. Adesso anche indietro. Anche indietro, caspita. Stai coltissimo nella schiena. Non ho tutta la schiena dorsale, ma è molto largo. C'è bene. Bene. Come una cuscina. No. Oh, ragazzi.